Finora dal cappello di Renzi sono uscite soltanto promesse, ma anche una certezza. Il Premier non ha un buon feeling con il Sud. Tre indizi, si dice, bastano a formare una prova, ma in questo caso di indizi ormai ce ne sono anche troppi. Renzi, quando c'era la campagna elettorale per le primarie del Partito Democratico, venne a Bari, si dimenticò, fece un bel discorso, ma si dimenticò proprio del Sud. Del Sud si è dimenticato nuovamente quando ha illustrato il programma di governo, se ne è dimenticato anche quando ha nominato i ministri. Poi quando ha assunto l'incarico e ha dovuto decidere quale dovesse essere la sua prima uscita pubblica, ha deciso di visitare una scuola. Gli hanno proposto due scuole da visitare, una del Nord e una del Sud, e lui ha scelto quella del Nord. Oddio, se vogliamo piccole cose, piccoli segnali, però significativi. Adesso però gli indizi diventano una prova, perché? Per il fine settimana Confindustria ha deciso di fare a Bari uno dei suoi tradizionali convegni biennali organizzati dal Centro Studi. Un appuntamento importante al quale mai un presidente del Consiglio ha rifiutato di partecipare. E a Bari si parlerà, in questo incontro di Confindustria, proprio del Sud. A questo convegno, come tradizione vuole, è stato invitato Renzi, come presidente del Consiglio, il quale però ha declinato l'invito. Non lo hanno fatto, nel senso che ci saranno, oltre a Squinzi, il capo di Confindustria, anche il governatore della Banca d'Italia, ci saranno i vertici dei sindacati, ci saranno tre ministri, rappresentanti della grande industria privata e pubblica. Ma Renzi no. Il premier si è sottratto al confronto dicendo che lui preferisce incontrare le famiglie anziché le associazioni. Formula da furbi che dovrebbe farlo arrossire. A Bari avrebbe avuto la possibilità di farci conoscere finalmente che cosa pensa del Sud e come intende farlo partecipare alla crescita del Paese. Evidentemente sul Sud non ha promesse da fare e non sappiamo se sia un bene oppure un male.